L'assessore alle politiche sociali del Comune di Nocera Inferiore rilancia l'azione a favore dei più deboli ed annuncia una serie di nuove iniziative che prenderanno il via al prossimo anno. Intanto il centro di quartiere di Vialoria si conferma snodo essenziale per le attività. Abbiamo gettato le basi in questo trimestre da settembre a dicembre per rilanciare tutte le attività sia del piano di zona ma anche del Comune di Nocera Inferiore. E chiaramente le iniziative sono tantissime, ne presenteremo altre come per esempio la possibilità di installare una rete internet al centro polifunzionale per renderla fruibile agli anziani ma anche disabili, la possibilità di prevedere anche corsi di formazione. Insomma tutte quelle attività che si pongono come unico obiettivo, come filo conduttore la tutela dei soggetti deboli delle fasce e deboli della popolazione. Il centro di Vialoria è diventato davvero un punto di riferimento come lei giustamente osservava per il convegno ma abbiamo avuto anche una cosa bellissima la settimana scorsa, la realizzazione di un presepe vivente i cui attori sono stati i propri ragazzi del centro polifunzionale di Sabili in un clima veramente bello, natalizio, che poi ha ricalcato un pochettino lo spirito che deve un poco permeare queste festività. Ma diciamo che siamo solo all'inizio, le cose da fare sono ancora tantissime.